Salve a tutti ragazzi, bentornati da Eitopone, sono qui su YouTube a fare la mia reazione al trailer di Horror Brawl, il nuovo gioco della Keplerians che sta per uscire Perché ci sta Luke che su Discord continua a parlarne Ragazzi ci sta il gioco della Keplerians che uscirà quest'estate E già il mio video che ho fatto sul secondo canale sta facendo tantissime views Quindi andate, spaccate di like, spolliciate, va bene, va bene, conoscete Luke E va bene, vediamo allora com'è questo gioco di cui appunto parla il mio caro collega Calabrese E vediamo com'è fatto, ho visto anche che ha fatto il trailer pure da Vixel, ha fatto anche in 4K, va bene Questo non è in 4K, è comunque in HD Andiamo a vedere appunto com'è sto trailer, che anche di una settimana fa sarà questo, vediamo Allora ragazzi potete sentire bene l'audio perché questo registratore nuovo mi permette di farvi sentire l'audio interno Ok, sento la musica del menu di Ice Cream di sottofondo Vedo delle mani Un bigliettino Una foto? No, è una foto Perché c'è un cristallo? Vedo un cristallo in mano Jay, ci sarai non lo trovo Ah ma è quello lì di Ice Cream Qua vedo una mazza Immagino sia la sua arma Infatti estate del 2021 Ci ho visto bene Eh, che altro può essere quella lì col martello? Dai, su, sappiamo che sei te Ecco, ho visto? Era mia zia Peppina Che è molto cattiva Bene, ci starà anche Sister Madeline di Evil Nun Beh, a questo punto ci starà pure tutto il team della Gablerians No, ho cliccato Che succede? Ah ok, mi è partito un video di Evil Nun 2, ma va bene Ok ragazzi, e questo era la mia reazione Beh, che dire Così sembra un gioco di combattimento Da questo microtrailer che ho visto Magari se vado a vedere il trailer di Luke Posso capirci meglio Ora, secondo me se scrivo Luke esce fuori lui subito Ah no, è vero perché lui l'ha fatto sul secondo canale Quindi è Luma Yuso TV Eccolo qua infatti Vediamo com'è fatto In arrivo un nuovo gioco Ah ma è praticamente lo stesso trailer Intanto qua partono le sue schede Ci saranno tutti i personaggi a quanto pare Ammazza raga, è una cosa che quindi promette bene Eh, giustamente parte Aspettate, aspettate Ho sentito l'auto di Luke Bene ragazzi, qua finisce il mio video Spolliciate E iscrivetevi al canale di Eito Pone Che sta quasi a 100 iscritti Mi raccomando Alla prossima dal vostro Luke Dai scherzo, scusa Luke Non te la prendere Io te voglio bene Se vedi sto video Non me rosica Va bene Alla prossima ragazzi Che dire Horror Pro vi sembra un gioco molto carino Fare anche multiplayer Quindi ragazzi chissà Magari possiamo farci un sacco di collaborazioni Con tutta la groove Cioè Eito Pone Luke Zero Two Tube Air France Davix E Lizzy Tutti a fare botte su Horror Brawl E vabbè Speriamo che Speriamo che sia un gioco bello Vabbè Parliamo della Capillarians Quindi non ci aspettiamo delusioni Ragazzi Alla prossima